Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini torna da Draghi, il Presidente del Consiglio, e parlano di diversi temi negli incontri che Salvini ha voluto rendere periodici. Quindi a colloquio a Palazzo Chigi con Mario Draghi, discutere di riaperture, riforme, vaccini, eccetera eccetera. Tirare fuori il Green Pass per prendere un caffè è fuori, discussione dice il capo della Lega. E così ieri mattina, mercoledì mattina, Mario Draghi incontra Matteo Salvini a Palazzo Chigi. L'incontro è avvenuto dopo pochi giorni da quello che ha avuto martedì con il leader del PD Enrico Letta e con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. I temi sono le riforme, la giustizia, concorrenza, fisco, prospettive economiche in generale e l'evoluzione del quadro epidemiologico. Salvini si dice riguardo al Green Pass contrario a quella che chiamano l'ipotesi alla francese, che poi c'era già in Portogallo da parecchio tempo, però è più bello dire alla francese che alla portoghese, chissà. Nessun modello francese, dice il capo della Lega, l'obbligo, la costrizione, chiedere il Green Pass per chi prende l'autobus o un caffè è fuori discussione. Cosa ne pensa Draghi? Dice chiedetelo a lui, ma le scelte estreme non piacciono né a me né a lui. Mettiamola così, ha commentato. Se ci sono eventi particolarmente affollati, lo stadio, ci possono essere una richiesta di controlli ovvia. Il modello francese non è un modello e riguardo all'obbligo vaccinale, aggiunge, tutti i fragili hanno tutta la convenienza di mettersi in sicurezza con il vaccino. Il vaccino deve essere una scelta, non può essere un obbligo. Sulle riforme il capo della Lega parla con Draghi e tutti e due convengono che è urgente chiudere i capitoli relativi alla giustizia, riforma fiscale, riforma della pubblica amministrazione e di avviare i cantieri fermi. Sì, quello dei cantieri fermi è una priorità assoluta. Forse la priorità delle priorità è quello di avviare i cantieri che sono attualmente fermi. Tutti devono partire, tutti quelli che sono stati bloccati da anni. Sapete che per aprire un cantiere in Italia ci vogliono di media 3-4 anni. 3-4 anni. Ci vorrebbe avere 3-4 giorni, non 3-4 anni. Ma roba da... Va bene. Secondo me la priorità assoluta sono i cantieri. Poi viene la riforma della giustizia. Abbiamo visto quel povero Matteo Renzi lì. Cosa gliene stanno combinando? La madre, il padre, lui, le conferenze. Di tutto, di più. Di tutto, di più. C'è totale condivisione, dice Salvini, su come andare avanti nei prossimi mesi. Bisogna correre sulle riforme. Quindi la riforma della giustizia da portare in Parlamento e da provare entro l'estate, dice al termine dell'incontro. Chiunque si metterà di traverso avrà nella Lega un avversario, perché la situazione economica è positiva. È un'estate con una crescita a doppia cifra. Lavoriamo con buon senso, ho detto il Presidente, che la Lega c'è. Bene. Salvini che cosa ha capito? Ha capito che Draghi non deve rendere conto a nessuno. Non gliene frega nessuno. Che fa la magistratura? Indaga Mario Draghi perché, non so, in Europa si è preso un caffè senza zucchero? Draghi, Draghi, con la sua esperienza e la sua età, non teme nessuno. Non teme nessuno. Dice quello di Renzi, le avvisi di garanzia su Renzi, qualcuno ipotizza è un avviso a Draghi, ma Draghi se ne strafrega di queste cose qua, perché è inscalfibile Draghi. Cosa gli vuoi contestare a Mario Draghi? Che non si è fatto la barba la mattina? Che non si è pettinato bene? Che la cravatta non era in tono con nella giacca. Niente. Pertanto lui se ne strafrega e Matteo Salvini dice se qui salta la riforma della giustizia, anche noi col prossimo governo, appena mettiamo mano a questa cosa qui, non ne usciamo più. Facciamolo fare a Draghi, facciamoglielo fare veloce, facciamogli rifare anche la riforma della previdenza, la riforma delle aliquote fiscali, in modo che la fa lui, non avrà nessun intoppo, nessuno gli può dire no, che la faccia lui ci troviamo già. Nel prossimo governo ci troviamo riforma fiscale fatta, riforma della giustizia fatta, riforma della pubblica amministrazione fatta, i cantieri avviati. Che cosa vuoi di più? Un Lucano? No, vi ricordate della pubblicità, no? Insomma, il segretario della Lega ha avanzato richieste che vanno dalla riapertura delle discoteche alla modifica dei criteri per individuare i colori delle regioni. Dice ho sottoposto al Presidente ciò che è stato avanzato dalle regioni, cambiare i criteri di colori ed eventuali chiusure, quindi passare dal numero dei contagi a quello dei ricoveri e delle terapie intensive che fortunatamente sono sotto controllo. Ci potranno essere più contagi? Dice beh, sì, ma non vuol dire che ci saranno più ricoveri. Riguardo alla riapertura dei locali, il leader della Lega spiega di aver chiesto che vengono riaperti già da questo fine settimana seguendo i protocolli di sicurezza del caso. Bisogna far tornare a divertire i giovani in maniera sana, sicura e controllata perché è meglio un divertimento sicuro in posti sicuri che quello che stiamo vedendo in giro per le città. Ritrovi abusivi, rave, vanno a ballare fuori, insomma, c'è chi balla da solo, chi balla in compagnia, balla tu che ballo anch'io. Insomma, le cose che dice Matteo Salvini sono assolutamente condivisibili, almeno sotto il mio punto di vista, magari sotto il punto di vista dei sinistri che hanno il compito di dire che tutto quello che dice Salvini è sbagliato, probabilmente diranno che è tutto sbagliato. Certo ci vuole anche, nel senso, quando devi dire che le cose giuste che dice Salvini sono sbagliate, certo che fai fatica anche a trovare poi delle motivazioni perché ti devi mettere lì a pensare, allora questo è sbagliato perché, cosa mi posso inventare, no? È difficile, su delle cose di buonsenso, cercare di dire il contrario, è difficile. Guardate che non è un compito facile dire che tutto quello che dice Salvini è sbagliato, eh? Non è facile, eh? Ci vuole un bel impegno, ma questo è quello che hanno scelto nel centro-sinistra. Non fare proposte e criticare solo quello che dice Salvini, Meloni e Berlusconi. Contenti loro, contenti i loro elettori che continuano a votarli, come si dice, contenti tutti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che siamo anche su Tele Italia Seconda Rete e che nella community trovate tanti sondaggi a cui partecipare. Grazie e arrivederci al prossimo video.